Ciao e benvenuti a questo video rapidissimo in cui vorrei annunciare ufficialmente la mia pagina Facebook, Highly Detailed, e ovviamente invitarvi a mettere mi piace alla pagina. Ho lanciato tantissime rubriche esclusive per la pagina Facebook, ve ne mostro qualcuna. Stare scuotendo un grandissimo successo la rubrica Cinesate, in cui parlo di bootleg e imitazioni, sta andando davvero molto molto bene. Un'altra rubrica molto interessante sicuramente per un appassionato di action figures è Cool Customs, in cui mostro i custom più belli del web, ovviamente dal mio punto di vista. E ho lanciato ultimamente altre due rubriche, una è chiamata Sexy Stuff, che come dice il nome riguarda le action figures e le statue più sexy del mercato. Qui ne possiamo vedere qualcuna. E ultima in ordine cronologico è Legendary Toy Lines, una rubrica in cui parlo delle linee di action figures entrate nella leggenda. Il primo numero l'ho dedicato alla linea Marvel Legends, e ho una mezza intenzione di fare la stessa rubrica anche in versione video. Ovviamente in versione estesa, quindi con qualche dettaglio in più, e penso possa essere una cosa molto interessante. Quindi nel frattempo vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, vi metto il link nel box informazioni. E detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!